testa in fermento la terra si presentava come un inferno il sole pomerigliano ardeva con tale impegno che perfino raumur appeso nello studio dell'agente d'aziario si era smarrito giunto fino a 35,8 gradi nell'incertezza si era fermato agli abitanti colava il sudore come ai cavalli strapazzati e asciugava da sé mancava la voglia di tergerlo sulla gran piazza del mercato in vista delle case con le imposte ermeticamente chiuse camminavano due abitanti il tesoriere poceschikin e il procuratore privato e altresì vecchio corrispondente ed è il figlio della patria optimoff i due camminavano e a motivo del caldo tacevano optimoff aveva voglia di criticare la giunta comunale per la polvere e la sporcizia della piazza del mercato ma conoscendo l'umor pacifico e la tendenza moderata del compagno di via stava zitto chi guardate eppel serapionic degli stormi sono passati in volo sto a vedere dove si posano tutto a un nugolo se mettiamo si sparasse una fucilata e se poi si raccogliessero e se nel sardino del padre arciprete si sono posati niente affatto eppel serapionic non dal padre arciprete ma dal padre diacono vrato eduf a tirare da questo punto non ammazzereste nulla e migliorò la fine e mentre vola perde forza e perché giudicate un po ucciderli è un uccello nocivo delle bacche è vero ma pur sempre una creatura un essere come ogni altro lo stornello diciamo canta e perché cosa si domanda esso canta in lode canta l'odio ogni creatura il signore ahimè no dal padre arciprete pare si sono calati accanto ai conversatori passarono senza rumore tra vecchie pellegrine con le bisacce e in lap t data un'occhiata interrogativa poceschischin e optimof che esaminavano chissà perché la casa del padre arciprete rallentarono il passo e allontanandosi un po si fermarono e ancora una volta gettarono uno sguardo sui due amici e poi presero anch'esse a guardare la casa del padre arciprete sì avete detto il vero ci sono posati dal padre arciprete continuò optimof da lui ora sono maturate le ciliese ed ecco si sono volati a beccare dalla porticina del presbitario uscì lo stesso padre arciprete vos misticef e con lui il sagrestano scorcendo l'attenzione rivolta dalla sua parte non comprendendo che cosa la gente guardasse egli si fermò e col sagrestano si diede egli pure a guardare in su per capire padre paesì si recca alla funzione bisogna supporre disse poceschischin dio l'assista nello spazio tra gli amici e il padre arciprete passarono gli operai del mercante puroff che allora allora si erano bagnati nel fiume questo padre paesì rivolgere la propria attenzione all'alto dei cieli e le pellegrine che stavano immobili e parimenti guardavano in su esse si fermarono e presero a guardar pure da quella parte lo stesso fece un ragazzo che guidava un mendicante cieco e un contadino recante un barilotto da linghe avariate da scaricare in piazza è successo qualcosa bisogna pensare disse poceschischin un incendio forse ma no non si vede fumo ehi kusma gridò al contadino che si era fermato che è successo là il contadino rispose qualcosa ma poceschischin e optimus non intesero a tutti gli usci delle botteghe si affacciarono commesse assonnati gli stuccatori che spalmavano lo spaccio di granaglie del mercante fertigulin lasciarono le loro scale e si unirono agli operai il pompiere che con piedi nudi descriveva dei cerchi sulla torre di vedetta si fermò e dopo aver guardato un po scese a basso la vedetta rimase orfana già parve il sospetto o che non ci sarà incendio da qualche parte e voi non state a spingere il porco diavolo dove lo vedete l'incendio che incendio signori ritiratevi e si prega coi bei modi prega coi bei modi e lui stesso caccia le mani non agitate le mani anche se siete il signor capo non avete alcun diritto di lasciar libere le mani ma ha pestato un callo a che ti possano acciaccare chi hanno schiacciato ragazzi hanno schiacciato un uomo perché tanta folla per quale necessità signoria hanno schiacciato un uomo dove ritiratevi signori vi prego con le buone con le buone ti sta pregando becero prendi a urtone i contadini ma la sente per bene non arrischiarti a toccarla non mi sfiorare o che son persone queste o che la si può correggere diavoli una buona parola sidorov corri a chiamare a kim danilis svelto signori avete dei guai signori avrete dei guai verrà kim danilis e avrete il fatto vostro anche tu ci sei perfetto e anche il cieco del pari il santo vecchio non vede nulla e si caccia dove van gli altri e non da retta smirnof segna parfum obbedisco obbedisco anche quelli di purof ordinate di segnare ecco questo stesso che c'ha la guancia gonfia è uno di purof quelli di purof non segnarli per adesso purof manifestezza il suono mastico gli storni in oscura nuve saranno levati sopra il giardino del padre arciprete ma poche ciskin e optimof più non li vedevano stavano lì e guardavano sempre in su sforzandosi di capire perché si fosse adunata a una tal folla e dove guardasse comparve a kim danilis masticando qualcosa ed asciugandosi le labbra egli ruggì e si gettò tra la folla compieri prepararsi ritiratevi signor optimof ritiratevi avrete dei guai invece di scriverne i giornali ogni sorta di critiche sulla gente a modo fareste meglio a cercare di comportarvi voi stesso più seriamente nulla di bene insegnano i giornali vi prego di non toccare la stampa si infiammò optimof io sono un letterato e non vi permetto di toccare la stampa anche se per dovere di cittadino vi rispetto come padre benefattore pompieri lanciate non c'è acqua signoria non discutiamo andate per l'acqua lesto non c'è su che andare signoria il maggiore è andato coi cavalli del corpo ad accompagnare la sua zietta ritiratevi l'idea indietro che i diavoli ti piglino le ha mangiati segnalo su diavolo il lapis è andato perso signoria la folla aumentava aumentava sempre dio sa a quali proporzioni sarebbe cresciuta se nella trattoria di griechkin non avessero avuto l'idea di provare l'organetto nuovo ricevuto in quei giorni la mosca la folla udendo la freccia emise degli ah e si riversò verso la trattoria così nessuno manco seppe perché si fosse radunata la folla e optimof e poce cischin avevano ormai dimenticato gli storni i veri responsabili dell'accaduto entro un'ora la città era già immobile e quieta e non si vedeva che un uomo in tutto e per tutto il pompiere che camminava sulla torre di vedetta la sera di quello stesso giorno akin daniris era seduto nella drogheria di fertigulin beveva una limonata gassosa col cognac e scriveva fuor del rapporto ufficiale oso aggiungere eccellenza anche da parte mia qualche supplemento padre benefattore giusto soltanto per le preghiere della vostra virtuosa consorte che dimora nella salube villeggiatura presso la nostra città la cosa non giunse ai limiti estremi tante ne ho provate in questo giorno che nemmeno posso descriverle l'attività di klucesinski e del maggiore dei pompieri purtupeyev non trova un congruo appellativo vado orgoglioso di questi degni servitori della patria io poi ho fatto tutto quel che può fare un debol uomo che nulla desidera al prossimo se non del bene e seduto ora in seno al domestico focolare ringrazio in lacrime colui che non permise si giungesse a uno spargimento di sangue i colpevoli per mancanza di prove stanno intanto sotto chiave ma conto di metterli fuori entro una settimana circa per ignoranza han trasgredito gli ordini grazie